Ciao a tutti io sono GB Factory e benvenuti in questo nuovo tutorial su Discord.js in cui vedremo come ostare un bot Discord. L'obiettivo di questo tutorial è avere il nostro bot Discord sempre online e sempre disponibile per tutti i nostri server o per i nostri utenti. Per farlo ci servirà un buon hosting, quindi un hosting affidabile che ci consente di ottenere un uptime elevato, quindi in sostanza che il bot sia sempre online e poco tempo offline e di conseguenza questo ci consentirà di avere i nostri utenti finali che utilizzeranno il bot soddisfatti. Il miglior modo per ottenere queste tre cose è utilizzare un VPS, un Virtual Private Server, quindi un server virtuale sempre online. Server virtuale significa semplicemente che all'interno di un server fisico sono creati più server virtuali in poche parole. Questi VPS sono molto economici, si possono trovare a pochi euro al mese, molto affidabili e molto flessibili. Infatti ci consentono di fare veramente moltissime cose oltre a ostare bot Discord. Quando si sceglie un VPS una cosa molto importante da guardare è la posizione di questa VPS. Infatti mentre configuriamo il nostro VPS oppure lo acquistiamo dovremo scegliere una posizione il più vicino possibile agli utenti finali che utilizzeranno il nostro bot Discord. Per esempio per il bot Discord utilizzato da utenti in Italia delle posizioni buone di hosting potrebbero essere a Milano oppure in Germania o in Francia. Nel difficile caso in cui queste opzioni non siano disponibili si può sempre scegliere un server in una grande città con una connessione veloce. Per esempio grandi città in America o comunque in Europa. Un'altra cosa veramente molto importante è il sistema operativo della nostra VPS. Per l'hosting di bot Discord ma anche di molte altre cose i due sistemi operativi più utilizzati sono Ubuntu e CentOS. CentOS è sicuramente uno dei sistemi operativi più stabili di cui di conseguenza più adatti per l'hosting rispetto a Ubuntu che è un po' meno stabile ma comunque un ottimo sistema. Il grande vantaggio di Ubuntu è che è molto più semplice da utilizzare per chi si approccia per le prime volte a queste cose e ha tanti più risorse in rete, tutorial e risoluzione a vari problemi che si potrebbero trovare. Mentre CentOS è un po' più complesso e ci sono meno risorse in rete rispetto ad Ubuntu. Nel tutorial di oggi io andrò a utilizzare Ubuntu, nello specifico la versione 20.04 per eseguire tutti i comandi e tutti i passaggi ed è lo stesso sistema operativo che consiglio di installare a voi nella vostra VPS. Prima di passare alla configurazione del server vera e propria guardiamo qualche sito in cui voi potete comprare il vostro VPS. Io personalmente utilizzo da molti anni OVH Cloud e non ho mai avuto particolari problemi. E OVH offre anche un piano di base per 3 euro al mese, 3,66 euro con IVA che offre una semplice VPS starter con un core 2 giga di RAM, 20 giga di SSD e una connessione da 100 megabit al secondo. Più che sufficiente per ostare un bot Discord. Io ho provato personalmente a ostare un bot su questo piano e funziona perfettamente anche con molti utenti. Ovviamente salendo di prezzo è possibile acquistare VPS con più prestazioni. Adesso ci sono anche gli sconti estivi quindi avrete uno sconto sui vari piani. Ovviamente oltre OVH ci sono moltissimi altri servizi da cui poter acquistare una VPS. Per esempio Ionos è stato consigliato da un utente sul server Discord GB Factory Code. Hanno un piano che parte da un euro al mese. Oltre a Ionos troviamo per esempio Vultr. Partono da 2,50 dollari al mese o 3,50 dollari per i piani di base. Abbiamo anche Hostinger che offre una VPS di base a 3,95 euro al mese. Infine c'è anche Aruba che offre una Cloud VPS Small a 2,79 euro al mese. Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione. Potete cercare su internet e leggere le recensioni come ne parlano gli utenti e prendere la vostra decisione. Dopo questa piccola introduzione possiamo procedere accedendo al nostro server tramite SSH. Le credenziali per l'accesso vi verranno fornite dal servizio di hosting da cui avete acquistato il VPS tramite email oppure tramite una schermata apposita nel pannello di amministrazione. Il modo più semplice per connettersi al server è quello di utilizzare la shell del vostro computer come il prompt dei comandi di Windows o la PowerShell. Però potreste anche utilizzare un software come Putty. In questo caso per connettermi direttamente dal terminale utilizzerò SSH seguito dal nome dell'account a cui voglio accedere. Quindi in questo caso GB Factory chiocciola l'IP del server. Quindi in questo caso io sto utilizzando un server locale. Quindi avrà un IP locale ma il vostro avrà appunto l'IP fornito dall'hosting. In questo caso il mio è 192.168.1.8. Diamo invio e qui ci chiederà un messaggio riguardante all'autenticità. Noi diciamo di sì scrivendo yes e diamo invio. A questo punto ci chiederà di inserire la password dell'account. Mentre noi digiteremo la password non vedremo niente a schermo per ovvi motivi di sicurezza. Una volta finita la digitazione diamo invio e ci farà appunto accedere al nostro server mostrandoci una schermata di benvenuto con alcune informazioni. Qui vedete io sto utilizzando appunto Ubuntu 20.04. Appena entrati ci troveremo nella directory nella cartella home. Lo capiamo da questo segno qui il tiled. E la prima cosa che dobbiamo fare è creare una cartella all'interno della quale inserire poi i file del nostro bot. Per creare una cartella utilizziamo il comando mkdir make directory seguito dal nome della cartella. In questo caso bot discord. Diamo invio e per verificare se la nostra cartella è stata effettivamente creata utilizziamo il comando ls per elencare tutti i file presenti in una determinata cartella. Diamo invio e vedete che adesso qui mi dice bot discord. Quindi all'interno della mia directory home ho la directory bot discord. Il prossimo passo adesso è andare all'interno di questa cartella a accedere alla directory. Per farlo utilizzeremo il comando cd change directory seguito dal nome della cartella. In questo caso scrivo bot, premo tab e mi completerà automaticamente il comando. Diamo invio e vedete che adesso questa parte è cambiata. Oltre al tiled che indica la home c'è uno slash seguito dal punto nome della cartella bot discord all'interno della quale siamo adesso. E se premo ls appunto vedo che non c'è nulla all'interno di questa cartella. Adesso la prossima cosa da fare, forse la più importante, è quella di installare node.js nel nostro server per consentirci di avviare appunto il nostro bot. Per farlo la prima cosa da fare è recarsi sulla pagina github di nvm, node version manager, uno strumento che ci servirà per installare node.js. Andiamo in giù fino a quando non troviamo questa stringa di comando. La copiamo premendo il tasto apposito e andiamo su il nostro shell e la incolliamo. Qui ci dirà che appena la incolleremo questo comando verrà eseguito. Diciamo incolla comunque e aspettiamo appunto che il comando venga eseguito. Questo appunto installerà lo script nvm sul nostro account, però per utilizzarlo noi dobbiamo digitare questo comando per recuperare il file bash rc. Quindi ve lo lascio anche in descrizione se volete copiarlo per via di carattere title non presente sulla tastiera italiana. Diamo invio e aspettiamo pochi secondi che venga eseguito e poi potremo digitare il comando nvm list-remoto appunto che ci darà l'elenco di tutte le versioni di node.js che possiamo installare sul nostro server. L'elenco è veramente lungo e contiene appunto tutte le versioni che si possono installare. In questo caso noi vogliamo installare la versione v14.17.3, la latest long term support release appunto che è indicata da questa scritta verde. Per farlo digitiamo nvm install v14.17.3 e diamo invio e aspettiamo appunto che venga installata con successo. Adesso digitando node-v vediamo che abbiamo come risposta v14.17.3. Questo ci dice che la nostra versione di node è stata installata con successo. Adesso digitando npm-v vediamo appunto che è stato installato anche npm il node packet manager altrettanto necessario insieme a node per il nostro bot. Adesso la prossima cosa da fare è caricare sul server tutti i file relativi al nostro bot Discord connettendoci appunto al server tramite FTP utilizzando un software come Filezilla o WinSCP che è quello che andremo ad utilizzare oggi. Vi lascio il link per scaricarlo in descrizione. Una volta installato ed aperto al programma vi dovrete trovare di fronte a una schermata di questo tipo. Per accedere al vostro server dovrete andare su nuovo sito e qui su sessione inserire tutti i dati del server. Protocollo file potete pure lasciarlo su sftp. Su nome server dovete inserire invece l'ip del server in questo caso 192.168.1.8. La porta va lasciata a 22. Nome utente ovviamente inserite il nome utente del vostro account e su password la password del vostro account sempre quelli forniti dall'host. Se volete è possibile salvare le credenziali per non doverle inserire nuovamente ogni volta cliccando appunto su salva ed è possibile anche salvare la password anche se non è sempre consigliato. Clicchiamo ok e adesso dovreste vedere il vostro server in questa finestra laterale. Per connetterci basterà cliccare su accedi e aspettare appunto che la connessione venga effettuata con successo. Adesso vedete che ci troviamo appunto nella directory home del nostro account con all'interno la cartella bot discord che abbiamo creato prima. La apriamo con un doppio clic e all'interno dovremo caricare i file del nostro bot. Qui a sinistra infatti ho aperto la cartella sul mio pc all'interno della quale ho tutti i file del bot. Quindi li seleziono facendo molta attenzione ad escludere con control click il file node modules dato che non dobbiamo caricarlo perché pesa molto e possiamo semplicemente installare tutti i moduli dopo e trasciniamo tutto quanto all'interno della cartella bot discord sul server. Lasciamo e aspettiamo che i file vengano trasferiti. In base alla vostra connessione ci vorrà più o meno tempo. A questo punto possiamo mandare Gcon al programma e tornare sulla shell. Adesso facendo ls vedete che all'interno della nostra cartella sono stati caricati tutti i file e due cartelle. La prima cosa da fare è eseguire il comando npm install per installare tutti i moduli che non abbiamo caricato ma che sono comunque specificati all'interno del file package.json che abbiamo creato ancora nel primo tutorial. Diamo invio e aspettiamo che il procedimento venga completato. A questo punto se facciamo nuovamente ls vedete che sarà stata creata la cartella node modules e se andiamo a vedere qui vedete che all'interno appunto ci sono tutti i moduli proprio come quelli che avevamo sul nostro pc però non abbiamo dovuto caricarli risparmiando moltissimo tempo. La prossima cosa da fare è installare un process manager. Un process manager ci consentirà di eseguire uno o più bot discord sulla nostra VPS e si occuperà anche poi di gestire la memoria assegnata a tutti questi bot. Un ottimo process manager molto utilizzato è PM2, Production Process Manager for Node.js. Per installarlo dovremo fare npm install pm2-g per installarlo globalmente un po' come abbiamo fatto con Node.js qualche tempo fa. Diamo invio e aspettiamo che il procedimento venga completato. Una volta terminata l'installazione di pm2 possiamo verificare che tutto funzioni digitando il comando pm2-list che ci dovrebbe elencare i processi attualmente in esecuzione però dato che non ce ne sono ed è la prima volta che eseguiamo un comando di pm2 ci farà vedere questa schermata di benvenuto e una tabella appunto che dovrebbe elencare i processi attualmente vuota. E a proposito dei processi per avviare il nostro primo processo, il nostro bot discord dovremmo fare pm2-start seguito dal nome del file principale del nostro bot in questo caso main.js Diamo invio e vedete che adesso ci verrà fuori nuovamente la tabella con questa volta però un processo avviato, status online. Tra le altre cose possiamo vedere il nome del processo, l'app time quindi da quanto tempo è online, la CPU e la memoria utilizzate. Se adesso andiamo su discord vediamo che il nostro gbbot è online e operativo se proviamo a eseguire un comando per esempio embed vedete che ci appunto ci invierà un embed come abbiamo richiesto proviamo anche user info oppure altri comandi ovviamente di quelli che abbiamo inserito nel nostro bot se a questo punto volete stoppare il bot la cosa è molto semplice vi basterà fare pm2-stop seguito dal nome che vedete qui nella tabella diamo invio e dopo un po' vedete che ci verrà fuori nuovamente questa tabella con status questa volta stopped ovviamente possiamo riavviarlo sostituendo start a stop ecco in questo modo ecco e con questo si chiude questa piccola guida su come ostare un bot discord su un vps se questo non è il metodo che fa per voi ovviamente ci sono delle alternative come per esempio questo piano di pebblehost specifico per i bot di discord che vi consente di avere il vostro bot di discord online con pochi semplici click in qualche minuto ovviamente però non è flessibile come avere una vps a disposizione dato che ci possiamo fare molte più cose oltre all'hosting di un bot discord vi ricordo che per qualsiasi problema potete entrare sul server discord gbfactory code trovate il link in descrizione se il video vi è stato utile e vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere le prossime puntate e noi ci vediamo come sempre in un prossimo tutorial e noi ci vediamo come sempre in un prossimo tutorial